Oggi quindi ragazzi crafteremo dei bunker in Minecraft, ma com'è possibile questa cosa? Non lo so, ma dobbiamo superare i 10.000 mi piace. Saluto Alessandra, Loris e Lisa, scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere saluti nei miei video, se siete nuovi iscrivetevi al canale col tastieros qua sotto e attivate la campanella su tutte quante le notifiche e superiamo 10.000 mi piace per un nuovo video su Minecraft. Ragazzi, benvenuti a un nuovo video di Minecraft, mi raccomando eh, superiamo i 10.000 mi piace, so che tanti di voi stanno guardando questi video qua dei bunker perché li state amando tantissimo, ma ancora non sono iscritti al mio canale, quindi mi raccomando, prevedete il tastieros qua sotto, iscrivetevi e attivate la campanella su tutte quante le notifiche che stiamo andando verso i 400.000 iscritti, quindi mi raccomando iscrivetevi. Allora, ragazzi, leggiamo qua assieme, oggi proveremo i crafting dei 5 bunker segreti di Minecraft, scegli il tuo preferito, sono tutti super segreti. Ottimo, ottimo ragazzi, quindi qua davanti ne abbiamo 5 chest con 5 tipi di crafting diversi appunto per ogni tipo di bunker. Ok, qua abbiamo già uno dei miei bunker preferiti, quello in diamante, ma questo lo potremo tenere anche per ultimo. Qua abbiamo legno, stone e oak, e invece qua abbiamo, uuuuh, leaves, oak e iron. Se notate ragazzi, al centro di ogni crafting c'è comunque un blocco di iron, che credo che sia l'oggetto fondamentale appunto per fare i bunker, quindi come per esempio scavare col piccone di iron o queste cose qui. Comunque, essendo che sono dei crafting, dobbiamo partire comunque da un test. Quindi partiamo dal craftare con la smooth stone, ah, qua c'è la nederite anche, e l'iron il nostro primo bunker di oggi. Allora, se non mi sbaglio era da fare in questo modo, smooth stone agli angoli e nederite al centro. Abbiamo l'ultimate, no, come ultimate bunker? Cioè questo qui è già il bunker OP. No, 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 allora calma, calma, calma. Questo qui ce lo teniamo veramente per ultimo. E partiamo però da questo qua in diamante, perché allora io mi ho creato tutto quanto l'hype, che quello in diamante fosse il più bello. Ma poi qua abbiamo tirato fuori l'ultimate. Allora, diamante agli angoli e blocco al centro, che è diamond bunker. Quindi abbiamo come primo oggetto da utilizzare il diamond bunker. Allora, dove lo spawniamo? In mezzo al villaggio lo spawniamo, per forza, però come funziona? Io piazzo quindi questo blocco qui di diamond bunker, che abbiamo appena craftato, e col flittersteel... Cosa? Ragazzi, è spawnato un bunker così al volo! Ok, allora facciamo così, scendiamo, scendiamo, scendiamo. Cioè noi abbiamo appena craftato un bunker di... Ah, poi non ci avevamo neanche fatto caso, ma ragazzi, scusatemi, tutte le pareti sono fatte in blocchi di diamante. Cioè noi con quanti blocchi? Quattro blocchi di diamante, più quattro pezzi di diamante, più un blocco di iron, abbiamo otto tutto quanto questo diamante. A me pare un po' illegale, ma che spettacolo! Di qua dove si va? Qua c'è una zona, tutto quanto lavori? Con un barile, ovviamente, pieno zeppo di diamante. Qua abbiamo un hopper, qua abbiamo una porta con... niente, niente di che, ok? Ma è bellissimo! E qua abbiamo anche una caverna, tutta quanta diamantosa nel caso avessimo bisogno appunto di diamanti. Diciamo che questo qui è un bunker per eventuali emergenze nel caso noi finissimo i diamanti dentro alla nostra serie vanilla. Di qua c'è un'altra zona, di qua cosa c'è? Qua ci sono altre trapdoor con i letti e queste cose qua particolari. Beh, ragazzi, ovviamente dovete dirmi qua sotto nei commenti, alla fine del video, qual è il vostro bunker preferito che metterò al cuore a tutti quanti i ragazzi che ovviamente sono iscritti al mio canale. Allora, diamo un voto a questo bunker di diamante da 1 a 10 e direi un bel 8. Perché se ci pensateci qua tenete veramente un tantissimo colcrafting. Però molto, molto bello. Allora, qua cosa abbiamo? Abbiamo del honeycomb e poi dell'iron, quindi abbiamo qua il bunker di miele. Ragazzi, qua partiamo... ok? Cioè, è un alveare però con attorno dell'iron, sembra, ragazzi. Allora, allontaniamoci un po' dal bunker di diamante prima che lo colpiamo. Mettiamolo, per esempio, qua dove c'è la fontana. Allora, attiviamolo. Ok? Ragazzi, è veramente un alveare. È spawnata così un'ape che si chiama B? Ok, ottimo. Ma dove devo andare? Si va giù? Ovviamente, se non è un bunker si deve andare per forza giù. Allora, scendiamo. Ma è un alveare vero e proprio! Bello! A parte che, ragazzi, non so se voi avete paura o meno delle api. Ma io ho super, mega paura delle api in generale. Però questo bunker qui è veramente molto particolare. Dove andate voi? Non invadetemi la vanilla. Ragazzi, non invadete la vanilla. Però lo invadete nel mondo normale. Qua cos'altro abbiamo? Altre api, pieno zeppo di api. Se ne tocco una, è la mia fine. Qua c'è il magazzino delle api, ovviamente, perché qua c'è tutto quanto il loro miele. Io ho paura di fare un passo falso che ci muoio qua dentro tutte queste api. Però molto particolare anche il bunker di per sé alveare delle api. Allora, qua facciamo una cosa. Chiudiamo, ok, qua risaliamo. Molto bello anche questo bunker qua delle api. Però diciamo che possiamo lasciarlo anche qua senza farle del male a nessuno. Possiamo lasciarli e abbandonarli. E per cos'altro abbiamo? Abbiamo questo bunker qui di stone, oak, iron e le slab sopra. Anche questo qui, ragazzi, ho molta aspettativa di questo bunker. Ricordiamoci che alla fine farò vedere anche il bunker, questo qua, l'ultimate. Allora, stone sotto, iron al centro, log ai lati e abbiamo il wood bunker. Quindi un bunker completamente fatto in legno. Ok, credo che questo qui sia il bunker da noob, in realtà, rispetto agli altri. Che magari quello delle api era giusto quello carino. Questo dov'è? Do not enter. C'è scritto di non entrare? Ok, va bene, allora entro. Ragazzi, che esce? Ho visto della lava! Ho visto della lava, ragazzi! No, no, eh, lo sapevo io che c'era qualche trappola o roba strana. Lo sapevo. Ok, non prendiamo troppo danno. Dormitorio della prima guerra mondiale. Ok, la vedo anche in una caverna. Lì c'è il diamante. Quindi qua è stato un dormitorio della prima guerra mondiale. Con un libro! Non lo voglio leggere, ragazzi, non lo voglio leggere. Però, ragazzi, qua abbiamo una bella zona, una cosa molto particolare. Facciamo così, mettiamoci un attimo in spettatore. No, ma si continua! C'è un bunker caverna! Ma che spettacolo, ragazzi! Sì, molto, molto bello questo bunker in realtà, eh. Diciamo che da bunker noob è passato a bunker pericoloso. Quindi il noob non è mai pericoloso, ragazzi, lo sappiamo tutti quanti. Però, molto, molto bello. Diciamo che questo qui è il mio secondo preferito, eh. Dopo quei diamante, questo qua era veramente molto, molto bello. Poi, cos'altro abbiamo? Questo qua dovrebbe essere, tecnicamente, il penultimo bunker, se non mi sbaglio. Quindi quello fatto in oak, poi con le leaves sopra e l'iron al centro. Ok, credo che a questo punto questo sia la casa sull'albero. Però, non può essere di persone a casa sull'albero. Deve essere, per forza, un bunker. Perché se no, non rientra dentro al video. Non ha senso che esista una casa bunker che in realtà sia sull'albero. Quindi vediamo cosa ce ne esce. Spiantiamo... Ma che bello che è questo blocco. Ma poi si vede, ragazzi, comunque c'è un po' di tocco di iron qua dentro, eh. In realtà, molto bello, molto particolare. Piantiamolo qua in mezzo agli altri alberi e accendiamolo. Ok. È un albero in realtà, ragazzi. No, no, no. Fermi un attimo. È un albero o un bunker? Dove si entra? Allora... Ah, non si possa dire... Ah, si scende! Ok, ok, ok. È un albero o no? È molto utile in realtà, ragazzi. Perché se fate un sistema di entrata tipo segreta con la redstone, potreste utilizzarlo, appunto, come casa dentro a un albero. Molto bello. Allora, scendiamo. Qua dove si va? Non c'è nessun passaggio segreto. Neanche qua. Si scende. E qua abbiamo tantissime chest. Con bucket, bucket, uh, acacia, sapling. Quindi qua abbiamo tutti quanti i sapling vari del legno. Qua dove si va? C'è un passaggio segreto? Soul Sandy, io vorrei... Ah, no. Di qua si sale, quindi di qua si scenderà? Sì, ragazzi, avevo ragione. Ok, ottimo. Però, qua vediamo, sì, sono tutti quanti i sapling con i bucket d'acqua. Molto bello questo bunker dentro all'albero. Perché gli dà proprio l'idea di vivere dentro a un albero. Ok, di qua credo che poi si salga per dopo. E qua ci sono delle chest con dei letti. Appunto, essendo un bunker, dobbiamo pensare al fatto che noi qua dentro tecnicamente dovremmo anche viverci. Magari nei momenti più difficoltosi, in quelli di crisi, in quelli di problemi. Quindi ci può stare, ci può stare. Ci sono solo letti qua dentro. Questo qua è vuota. Vuol dire che qualcuno può averne già rubati. E credo che a questo punto, se si va di qua, si sale verso il punto dove prima non abbiamo provato a entrare. E infatti, e infatti abbiamo ragione. Ok, molto molto bello. Molto particolare anche il bunker di legno. Cioè, in realtà non il bunker di legno. La casa bunker di legno. Ma, ragazzi, noi già l'abbiamo craftato l'ultimo bunker. L'ultimate bunker è quello più particolare. Quello che noi ci siamo tenuti per ultimo. Perché per ultimo? Perché appunto di nome ultimate questa cosa qua un po' mi preoccupa. Quindi facciamo una cosa. Piazziamolo qua a terra. È fatto in nederite e iron. Anche il crafting era fatto in smoothstone. Infatti si nota che qua è un po' più grigio. Poi il bianco qua sopra, quindi di iron. E poi nederite. Ragazzi, porcellino. Attiviamo il bunker. Ti è andata bene che non ti ho colpito, eh? Potrei cuocere. Urca! Urca! Ok. Le lantern, ragazzi, blu. Che sono una delle mie cose preferite. Che sono state aggiunte nella ultima versione di Minecraft 1.16. E già sono belle. Anche le torce in fuoco blu sono uno spettacolo. Ma abbiamo un bunker di nederite. Oh la la! Questo qua è il bunker da pro, ragazzi. Se quello di prima era il bunker da noob. Quello fatto in legno e stone. Questo qua è da super pro. Perché se ci pensate, ragazzi, qua abbiamo nederite, blocchi di diamante, ovunque. Il bello è che tutto ciò era contenuto dentro a un blocco di Minecraft. E questa è una cosa particolare. Anche le envil, che sono super utili. Però sono già un po' troppo utilizzate. Ah! Abbiamo anche delle prigioni qua dentro. Perché vedo anche delle teste di scheletro. Molto bello! Qua cosa abbiamo? Abbiamo nametag. Nametag su nametag. Altre nametag. Quante nametag? Urca! Vabbè, ragazzi. Questo qua è proprio il bunker da pro, pro, pro. Qua abbiamo le teste di Ender Dragon. Il portale dell'Ender... Urca! Armatura di nederite, ragazzi. Questa qua me la metto subito. Altro che... Altro che... TNT. Nether Star vuol dire che qua ha fatto fuori anche un sacco di Wither. Guarda le Wither, così, Beacon. Vabbè, vabbè, ragazzi. Ma io non me le rubo tutte quante queste me le do ROP. E di qua abbiamo altre Splash Potion di Slow Falling, di Instant Damage. Molto forte, molto bello questo bunker, ragazzi. Anche particolare. Beh, diciamo che secondo me... Ma mi hanno intrappolato qua dentro, ragazzi. Allora, io come faccio a uscire? Vabbè, allora facciamo una cosa. Diciamo che secondo me questo è il bunker più forte di tutti quanti. Perché, ovviamente, con quello che c'è all'interno, ragazzi, è molto particolare, ma molto bello. Ragazzi, mi raccomando, ditemi qua sotto nei commenti qual è il vostro bunker craftato preferito. Che metto al cuore a tutti quanti i ragazzi che sono iscritti al mio canale. Mi raccomando, scegliete uno dei due video qua davanti per rimanere sempre sul mio canale. Oggi è uscito un video alle 15, domani uscirà un video sia alle 17 che alle 19, quindi non perdetevi, ragazzi. Mi raccomando, vi dovete lasciare un bel piaccio, un bel commento, iscrivetevi al mio canale se avete fatto a scegliere uno dei due video qua davanti. Mi raccomando, è molto importante, ragazzi, scegliete uno dei due video qua davanti. Da Marche è tutto. Ciao, ciao!